Mi ricorderò come si gioca Una kill, un livello, ok Oh damn Non ho perso, non ho perso la mano Sei kill, sei livelli Let's go, let's go, let's go, let's go Oh 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 244 metri Oh Non lo so, tutte le cechinate vanno a segno Ma che è? Devo sciopare 17 livelli, ok Va bene, va bene Permesso vado col taxi P-p-p-p-p-p Cosa? Ancora non hai messo like E soprattutto non usi il codice creatore Dello zamico sul mio negozio Bene, spero ti sia chiaro Come se è tutto, spero che non sia per la grandissima ragazzi Oggi vi porto un video di Fortnite Visto che tutti quanti avete giocato la stagione 4 Tranne me Io ancora non ho aperto Nada Perciò ragazzi vi porto la mia prima partita in assoluto Ma ogni kill che farò in questa partita Andrò a scioppare un livello Quindi se farò 10 kill saranno 1500 bucks Se ne farò 20 Sanno 3000 E così via Ovviamente se muoio subito ne faccio delle altre Perché non è che posso giocare 2 minuti Una, cioè non si può Quello che vi chiedo ragazzi È di lasciare un bel pollicione in su E tutti quanti iscrivetevi al canale Se volete che vi guardi ancora Fortnite Vai guys E tante cosette interessanti Quindi allora mettetevi super super comodi ragazzi Mi prendete la nostra Coca-Cola Popcorn Che partiamo vediamo com'è questa nuova season Ed ora si come sempre Let's go Allora ragazzi Eccomi qua Intanto ci ho fatto il pass Almeno scioparlo Ma non ci ho capito niente Ci sono troppe cose nuove Voi sicuramente siete più esperti di me Per prima cosa compro Non so se compro questa Me la compro Mi tengo i V-Box per i livelli Me li tengo per i livelli Ogni kill mi shop un livello Se lo compriamo Se lo compriamo ragazzi È nostro Abbiamo il pacchetto Sei proprio un maccio alfa Maccio attore Ma perché c'è attore Abbiamo questo Silvio Per carità Non possiamo proprio vederlo Con quella roba lì Questi ali ci stanno Ma vogliamo qualcosa di chill per lui Così Così Ma che bello che sei Silvio Ma che bello Ora sì ragazzi Ci siamo Non c'è più gatto grills Non so dove andare Vi giuro Che livello sono C'è Livello 26 Ok E non c'è niente Non c'è niente In arena Chissà che livello sono in arena Ok sono a 0 punti Per aumentare Devo fare 250 punti Andiamo in pubblica E Vediamo un po' Come è cambiato Questo Fortnite Season 4 Che è da giorni che c'è Avete già scoperto tutto Io non so Niente Mi ricorderò come si gioca Mi ricorderò come si gioca Ok 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 Ci sono dei caccia Oh my god Raga Ma che è successo qua Ma cosa sono qui Perché ci sono dei robot lì Ma il gatto grills c'è ancora Però immagino Non ci sia più kit kat Raga non saprei Vabbè Io mi butto dove conosco Io mi butto dove conosco Potrei anche andare al lago Se non ci sono più i boss Eh 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 Senza boss Che facciamo Comunque Silver con la carta izenica Non si può vedere Anzi si aspetta È bellissimo Ma perché mi frame droppa Ma what the hell Ma bruda My game Comunque Ogni kill eh Ogni kill Ho già visto qualcuno Ci sono ancora gli elicotteri Chissà che cavolo C'è Che giuro Boh Ho visto alcuni video Con pesce Cose strane Dei poteri Dei boh Robbe veramente strane Oh my gatto Lo spasso Ritornato Mi sta fai droppando E mi sta dando fastidio Sta roba Sta veramente dando fastidio Facciamo che Magari mi faccio Un paio di partite Perché una Cioè Perderò tempo A capire cosa succede In questo mondo E li li Sono due Quanti sono Ma che Ma che sta facendo Quello Ma che Ma cosa vedono I miei occhi Ma sta ballando Ok L'ho presa io La kill L'ho presa io Oh Ma che sono questi rumori Una kill Un livello Ok Vediamo qua Il livello com'è Viste pubbliche Ma è bruda Non ti copre neanche Ma è bruda Ma è massima Era un bottazzo Rarissimo 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 quel bottazzo Hola C'è nessuno C'è qualcuno Che vuole giocare Con me Com'è lo spa solo L'ha depotenziato Che sennò Adesso C'è uno lì sotto Fa il giretto A piedi È il momento E' da L'Uccidere Nice Andiamo di qua Andiamo di qua Scusatemi Non vi cedete Due livelli Let's go Anzi Tre livelli Sono già Per chi Oh Damn Non ho perso Non ho perso La mano Quattro livelli Devastato Madossi rumori Di Avengers Mi fa sentire Veramente Troppo carico Qui c'è le bugie 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 Oh Headshot Non mi morire Non mi morire Che mi serve L'altra kill Siamo già Cinque kill Cinque livelli Devo fare Madonna quest'arma Ma l'ha Migliorato Cosa C'è tutti i colpi Vanno a segno Ma che è Sei kill Sei livelli Let's go Let's go Let's go Permesso Vado col taxi Pip 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 Non mi arriva Qualcuno mi ha sparato Allora Intanto devo scoprire Cos'è sto pesce Che fa sto pesce Pesce termico Wow Wow Damn Ma cos'è Spettacolo Oh Oh my god Quanto dura sto robo Andiamo Sceso Sceso Wow Non ho perso la mano Neanche col cecchino Siamo a nove kills Porca miseria Caramellito Chiaramente Era un caramellito Chiaramente Ma guardate Aspetta 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 Qua c'è un bruta Che qua c'è un bruta Pau Easy 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 Oh 244 metri Oh Pau Ma non è dubbio Salgo così Che fai Che fai Che fai Che fai Pau Soltella Comunque l'audio è migliorato tantissimo Andiamo a incidere quello Le cechinate Non le ho dimenticate le cechinate Non lo so Tutte le cechinate vanno a segno Ma che è Seriamente cosa stai facendo Chi Deci chino ferisce Deci chino ferisce Devo shoppare 17 livelli Ok va bene va bene Allora intanto mi shoppo i 17 livelli Ok e li compriamo E ok Questi sono 17 livelli Devo fare la win ma E non lo vi Mettici Dove ne è 550 Addie i miei bubax Addie i miei bubax Equipaggia Facciamolo Equipaggiamo lui Ok Raga Mi faccio un'altra partita dal volo Vi faccio vedere l'endgame La mia seconda partita Perché la devo winnare E devo Cioè mi butto in qualche posto nuovo Io sono Gru Gru Vabbè raga forse è meglio che la prossima partita La lascio in un'altra volta E Potevo winnarla facilmente con 20 bombs Ma mi sono fatto cecchinare La mia prima partita su questa sezione Mi beccano a cecchinata Però ho comprato un sacco di livelli Quindi ragazzi mi raccomando Spolliciate se volete Altri video su Fortnite Noi ci vediamo domani 10.30 Con un altro video sempre qua sul canale Ciao